Alessandro Ferrara, coordinatore in Vale Seriana del Movimento 5 Stelle, entra quindi in Consiglio Comunale ad Albino. Come commenta l'esito di questo ballottaggio? Ma guarda, innanzitutto siamo contentissimi di essere entrati in Consiglio Comunale perché poi in fondo è il nostro obiettivo, cioè quello di riportare i cittadini al centro delle istituzioni. Quindi è un risultato ottimo, avremo cinque anni per lavorare, per fare esperienza all'interno del Consiglio Comunale e poi valuteremo fra cinque anni se sarà il caso o meno di ripresentarsi. Secondo lei i voti del Movimento 5 Stelle sono stati fondamentali? C'è stato questo appoggio a terzi o non c'è la sensazione di come sia andato? Ma no, guarda, io da quello che ho potuto vedere penso che i voti si siano divisi equamente tra terzi e Carrara. Credo che abbia pesato molto la gestione del Comune negli ultimi cinque anni. Probabilmente gli albinesi non erano pienamente soddisfatti della gestione Carrara e hanno cercato un cambiamento con terzi. Come interpreterà questo nuovo ruolo in minoranza? Sarà una minoranza aggressiva? Sarà una minoranza che cercherà comunque di lavorare con la tua maggioranza, quindi con Fabio, perché comunque sia noi siamo aperti a tutte quante quelle che sono idee che vanno per il bene del cittadino. Quindi non faremo un'opposizione a prescindere, quindi sempre con dei no a tutto quello che verrà proposto dalla maggioranza, valuteremo di volta in volta quello che verrà proposto e se lo riterremo utile per la cittadinanza appoggeremo assolutamente la giunta terzi. Ecco una domanda invece più da coordinatore del movimento in Valle Seriana. Ora state lavorando per prossime elezioni in altri Comuni. Tra le righe la mia domanda, Clusone? Sì, adesso partiamo per impostare la campagna elettorale per Clusone per l'anno prossimo. Abbiamo un gruppo che si sta formando lì a Clusone, puntiamo comunque sia a presentare anche lì una nostra lista e a cercare di mettere dentro anche lì qualche consigliere nel Consiglio Comunale in maniera da poter fare esperienza e poter essere pronti poi per la successiva tornata elettorale. Quindi gli obiettivi a lungo termine? Gli obiettivi a lungo termine sono quelli di andare a rinforzare quello che è il gruppo. Già adesso comunque avendo un consigliere all'interno di Albino e uno all'interno di Prada Lunga abbiamo deciso di dividerci in gruppi tematici, quindi ogni consigliere sarà supportato da dei gruppi tematici che gli danno una mano a seguire i vari consigli e le varie commissioni in maniera da farci trovare preparati ad ogni intervento.